Per venire subito, dice... Sì, per venire subito. Il governo, ovvio, ribadisco, questo governo era nel pieno dei poteri anche a marzo, anche a luglio, nonostante la caduta, poteva fare dei provvedimenti. Non li ha fatti. Tanto è che mi sorprendono le uscite, le scoperte improvvise di alcuni che hanno perso le elezioni e che adesso dicono, eh ma bisogna fare, non si capisce perché non si interviene. C'è un governo che è presieduto da Mario Draghi con una maggioranza amplissima in Parlamento, quindi se volesse fare un provvedimento, certo che lo potrebbe fare, perché non lo potrebbe fare? Beh, dice l'ordinaria di amministrazione. È l'ordinaria di amministrazione, ma l'ordinaria di amministrazione quando si tratta di votare qualche altro provvedimento magari di aiuto all'Ucraina, non è che si tira indietro nell'ordinaria di amministrazione, non lo può fare, giusto? E allora se c'è... perché? Perché lo fa? Perché c'è un'emergenza, perché c'è l'emergenza ucraina. Ma allora se c'è l'emergenza delle imprese che stanno chiudendo, perché non lo puoi fare? Perché non puoi intervenire? Perché non puoi decidere di mettere dei soldi oppure di fare in modo che le bollette siano rinviate? Invece no, sapete cosa hanno fatto? Sapete cosa ha fatto il governo? Ha praticamente, dopo che c'era stato il blocco delle tasse, così ha dato il via libera all'agenzia delle entrate perché passi alla riscossione delle tasse. Quindi quelle aziende in difficoltà che non sono in grado di pagare si trovano... Dovano pagare pure... Certo.